e ben a tutti dal lupo ragazzi si lo so da un sacco di tempo sentite più questa voce e anch'io volevo dirlo comunque si ragazzi siamo tornati finalmente il pc è ritornato dal suo bel viaggettino che ha fatto in germania speriamo che si sia divertito poi cosa dire altro si vabbè adesso comunque state guardando un video di bleak hoops 2 il commentary sarà quello che è visto che comunque è da un mese e mezzo che non faccio più video quindi si devo un po' ripartire quindi penso non so quando è che rilascerò al prossimo live spero il buono possibile poi cos'altro dire sì beh adesso sto utilizzando windows movie maker si ragazzi lo so che fa schifo ma per adesso è l'unica cosa che ho quindi non so speriamo in bene non faccia cavolate cosa che sta facendo adesso del tipo che non sento l'audio quindi ha scoperto che le cuffie chi vuole poi giocare da una parte non si sente più vabbè l'ho lasciata lì come al solito col mio solito ordine comunque sì penso che non so se ho già detto pure no comunque sia un video di bleak hoops 2 in quanto adesso ho deciso che in questo video che si sono da solo parleremo un po di quello che avverrà in questo canale infatti adesso comunque essendo le vacanze non so quanto ci potremo vedere almeno credo che con jacopo mi penso che non lo vedrete per un po di tempo perché sia andato in vacanza credo che comunque riuscirò sicuramente a far qualcosa anche con stefan kaos comunque avete la copertina si ragazzi abbiamo la copertina adesso non ancora caricata speriamo che non faccia cavolate youtube sì perché si vede così male vabbè si ragazzi 20 rappresentano forse quelli che alla fine saranno i giochi tratteremo di più che lo avete lasciando è meglio fede il creeper perché lo dovuti lasciare e il pc sì l'ho detto perché sarà soltanto playstation 3 e playstation 4 non si sa mai cos'è che dicano siamo poi tutti quelli della macro che si lamenteranno ragazzi io la macro non è che andiamo tanto d'accordo soprattutto dopo tutto il casini che sta facendo quindi cosa dire praticamente sì in questi tempi aspettando quelli che dovrebbero essere i prossimi titoli vero battlefield online e call of duty advance warfighter si può dire che per esempio tratterò principalmente black ops 2 perché per chi non lo sapesse call of duty boss proprio l'ho buttato via che no si ce l'ho ancora lì però sarà tipo da un mese un mese e mezzo che non ci gioco ancora di questo genere si ragazzi mi ha fatto veramente schifo per motivi che forse poi ne parlerò in un video quindi continueremo sicuramente black ops 2 che adesso appena prestigiato sono al settimo prestigio il mio obiettivo sarebbe arrivare maestro prestigio ma contando che siamo a giugno lo so che non ce la farò poi sì ragazzi vabbè sono felice come sapete l'italia vi ha battuto l'inghilterra mentre sto facendo questo video la spagna è stata eliminata dai mondiali 15 si può parlare di vendetta per quello che è successo agli europei e poi adesso soprattutto voglio ringraziare tutti i coibenti sono iscritti anche comunque se canale rimasto relativamente abbastanza inattivo dopo comunque averlo cancellato per chi non lo sapesse se ragazze colpa di stefan caos quindi prendetevano con lui insultatelo pure quanto vi pare perché l'abbiamo fatto anche noi e si parlando sempre di black ops 2 e battlefield 4 adesso volevo sì comunque rendere la loro presenza un po più grande nel canale se può comunque adesso in questi ultimamente abbia acquistato vari giochi si perché comunque la playstation 4 è tornata figurarsi questo compito è stato lì un mese e mezzo la playstation 4 due settimane questo tanto per farvi capire che la superiorità pc console non è che sia tanto marcata ma poi questo qua comunque vorrei anche dire la mia opinione in un video comunque qui c'è altri due giochi che per chi non sapesse watchdogs in famous second sun quindi stavo pensando di fare qualcosa soprattutto perché watchdogs è stato tipo preso di mira da un sacco di persone personalmente non ne capisco bene il motivo anche perché adesso si sta parlando ripeto si sta parlando che sembrerebbe che abbia ritrovato dei file che ha dalla stessa rapa che era l'età 2012 quindi ragazzi probabilmente la ubisoft sia fatto una cavolata quindi in famous personalmente non so che video potrei fare ragazzi se qualcuno avrebbe un suggerimento ce lo dica penso dei funny moments e anche watchdogs funny moments ma poi comunque c'è anche multiplayer quindi magari potrei parlare con qualcun altro come per esempio dottor kuto che anche lui l'ha preso e si ragazzi comunque per quanto riguarda il battlefield 4 vorrei andare forse un pochettino oltre rispetto ai soliti live che penso ci avete fatto vedere che a dire la verità sono anche abbastanza pochi e quindi adesso vorrei puntare a qualcos'altro volevo fare forse non proprio dei commentari ovvero potrei farsi dei commentari anche su battlefield 4 ma far magari dei gameplay tematici come adesso dico subito che questo gameplay qua per chi se lo chiedesse adesso vedete che il punteggio è 150 per l'avevo fatto tipo questo qua è vecchissimo stiamo parlando di giugno maggio 2013 che avevo fatto quando c'erano i punti c'erano verso il match square con 150 punti infatti la prima volta che chiamerò l'elicottero stealth non lo chiamerò penso mai più nella mia vita ed era anche tempi in cui utilizzo il silenziatore per chi non sapesse adesso ormai il silenziatore non lo uso più comunque quanto riguarda questi live tematici stavo pensando di farlo qualcosa comunque riguardante principalmente le armi una delle idee principali sarebbe quella di fare delle carriere delle classi che abbiano delle armi che abbiano una stranità in comune adesso avrai già qualche idea che sicuramente farò poi comunque altra cosa parlando sempre di battlefield sempre battlefield 4 prossimamente certa gente dice già 24 25 dovrebbe uscire battlefield il dente di drago è quella nuova vediamo cosa succede anche per adesso forse è l'unico dlc che abbia convinto veramente è stato si è stato praticamente l'ultimo che mi ricordo neanche più il nome va beh lasciamo stare comunque si quello lì ha inventato non c'erano perché gli altri avevano delle mappe che non mi convincevano ovvero second assault aveva quella lì confine sul caschio operazione metro che io la odio 64 giocatori e mentre per quel che riguarda mentre per quel che riguarda era silato era china rising proprio le mappe io le odiate perché erano troppo grandi poi comunque verso ve lo parlerò prossimamente ci sarà un video che invece ho deciso di dedicare agli fps vi dico anticipo velocemente che parlerà di due parole che adesso difficilmente si associano agli fps ovvero crisi che diciamo a questa parola qua crisi che poi comunque ne parlerò in seguito quindi questi questi sono i principi qualcuno dei cambiamenti che arriveranno nel canale poi come comunque ci sono dei cambiamenti non so per adesso comunque adesso ultimamente forse sto si bestemmiando un pochettino meno e sto seguendo anche gente che fa competitive quindi probabilmente ci saranno anche dei video magari con qualche consiglio che comunque imparano dai loro video e cos'altro dire ragazzi beh se qualcuno interessasse fare collaborazione con noi ci contatti pure noi siamo sempre disponibili e poi comunque ci metteremo d'accordo poi per chi magari volesse soltanto vedere dei video di garris mod ragazzi c'è per adesso stefan caos mi ha detto che ne dovrebbe fare una specie di montage però non so c'è lui dice le cose poi non le fa quindi ragazzi non so cosa dirvi se questa qua è proprio una cosa assurda vabbè quindi ragazzi questo qua come ho detto un video in un altro tempo lo so che non sarà proprio il massimo ma ragazzi ci vorrà un po' di tempo per ingranare e adesso comunque cercherò di soddisfare il massimo diciamo questa attesa di un mese e mezzo per chi è rimasto e comunque far valere questa attesa spero che questo video sia guardato da un po' di gente e che youtube non faccia casino come le feed anche se dovrebbe averle risolte e niente ragazzi il video sta per finire adesso simpaticamente la tana avrei provato di parlare tre ma mio compagno me l'ha rubato quindi bello a tutti dal lupo e ci vediamo a un prossimo video grazie